Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su Fuzzinib questa mattina faremo un fretta in modo da muoverci perché ho già fatto quella su DAX per cui se volete un mercato di riferimento utilizziamo un pochino di più adesso quello allora facciamo un recap molto rapido qui siamo arrivati all'undicesimo T-3 se non andremo rapidamente in violazione dei 10.16916 e successivamente nel secondo swing a 17.027 non recupereremo e non sarà corretta l'analisi fatta fino ad ora che però ci ha portato eventualmente a fare dei trade validi ma su DAX in questo caso perché non si può fare short su altri indici soprattutto sul nostro è totalmente idiotato per cui dovremo eventualmente valutare l'ipotesi raccordo per tutto ciò che va da questo minimo a questo minimo per ora però sembra che dopo una nottata a ribasso i future vogliono acquir con perlomeno più 95 punti quindi attorno ai 16.912 e ciò ci porterebbe almeno sopra già il primo swing nel caso appunto partisse un nuovo T più 1 chiuso il precedente qua saliremo perlomeno per far partire un B settimanale per un T meno 1 ovvero da minimo a minimo tendenza almeno in salita per 3-4 giorni quindi ritorneremo probabilmente verso i livelli dove sarà la media mobile a 50 periodi questo è quanto per cui se l'analisi vi è piaciuta mettete un like e buon trading a tutti